Segnale News Accertamenti che saranno effettuati anche con l'ausilio del luminol e alla ricerca di eventuali tracce di DNA. Una notizia che arriva a stretto giro di posta dopo la decisione della stessa procura Cassinate che aveva respinto la richiesta di archiviazione del caso. Sempre per quanto riguarda la pagina della cronaca, oltre 4.000 articoli per il carnevale tra costumi, maschere, giochi e gadget non conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla comunità europea, ovvero posti in vendita in assenza di autorizzazione amministrativa, elementi che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Soria e di Anagni nel corso di servizi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Cambiamo argomento Auto Energy Project. Questo è il nome del progetto promosso dalla Camera di Comercio di Frosinone e dall'Aspin nell'ambito della cooperazione internazionale Automotive Energia. Un progetto che guarda al Marocco, al Kazakistan e alla Turchia, cofinanziato dalla Regione Lazio e precisamente dall'assessorato allo sviluppo economico e alle attività produttive. Il progetto verrà presentato giovedì 18 febbraio all'interno della Sala Tevere della Regione Lazio a Roma. E su proposta del Sindaco di Alatri Giuseppe Morini, il Presidente del Consiglio Comunale Fausto Lisi ha convocato una seduta straordinaria della massima assise cittadina per la giornata di sabato prossimo alle 11. Due punti all'ordine del giorno. Dopo la discussione su interrogazioni, emozioni e interpellanze, si svolgerà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Don Domenico Pompili, Vescovo della Diocesi di Rieti e al notaio Carlo Fragomeni. Ed ora occupiamoci di personaggi. Giuseppe Ottaviani, 100 anni e non sentirli. L'atleta è stato ospite ieri all'interno del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Ottaviani gareggia nella categoria Master 95 riservata agli atleti di età compresa tra i 95 e i 100 anni, ottenendo brillanti risultati. Ottaviani ha conseguito numerosi record del mondo. Lo vediamo in foto con la nostra collega Elena Pittiglio. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda questo appuntamento informativo. Noi ci risentiamo più tardi. Grazie. Grazie.